bella ragazzi vabbè questo bellissimo oggi dobbiamo scavare nel nether con i letti quindi dobbiamo prendere un po' di legno vabbè quanti letti possiamo fare? 5 chi è? a che ti servono tutti i letti? perchè praticamente se tu come si chiama? se tu scavi se tu nel nether piazzi dei letti e poi ci vuoi pure dormire quello semplicemente esplode ho altra lana sotto? si mi sto ricordato sotto non ho casse quindi semplicemente vado a fare così pecore senza ucciderle perchè poi diventa peccato a posto non è risolto eh mo che va galdo ora però fammi vedere una cosa c'è questi letti da quanto sono cliccabili? 1,2,3,4 e 5 fino a 5 blocchi dici il letto è troppo distante però è cliccabile 6 blocchi non è più cliccabile quindi noi dovremmo piazzarci al quinto blocco qua blocco di pietra per fare tipo da scudo a posto quindi mi serve un blocco di pietra una pietra a cazzo non è che devo fare chi è? tuffo? chi è? che cazzo ne so che dite? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 blocchi basta no? ma secondo me si dai allora questo è andiamo giù che dici mi porto pure questo tanto non è che io dormo qua sotto ma si fa un culo portiamoci pure questo anzi anzi chi è? c'è eh ma se vuoi dormire eh tanto ho il letto sopra perchè io avevo due letti uno per dormire sopra e uno per dormire sotto c'è se qua non posso dormire perchè ci sono gli zombie questo lo tolgo e lo metto sotto tanto ho questo a posto questi abbiamo 10 letti buono se siamo nel nether ora dove cazzo possiamo fare questo scavo? boh ok dai ci fa da qua poi poi dobbiamo migliorare la farm con la d'oro con le tarturiche vabbè poi vedrete allora intanto scaviamo intanto qua non devo stare shiftato perchè sennò ci è ma poi che questo blocchi chassano sempre per costruire allora 1 2 3 4 e 5 chi è? vedi? 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 vabbè così muoio però vedi ha funzionato vedi ha funzionato ha scavato tiè 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 vedi? comunque comunque ha funzionato questo ancora buttiamolo giù ecco chi è? chi è? vedi? ha funzionato e mo' dobbiamo soltanto vabbè ha funzionato qua non ci sono blocchi di netherite? no peccato allora 1 2 3 4 e 5 aspetta mi metto giù un altro letto chi è? ci ci un cazzo niente ci però vedi perché c'è gente che lo fa giustamente cioè perché giustamente c'è gente che lo fa con come si chiama? con la dinamite ok cioè tu dici vabbè io lo faccio la dinamite ci sta la dinamite è più costosa perché giustamente sabbia e mortacci cioè perché la dinamite è anche molto più costosa perché ci vuole la polvere da sparo e quindi creeper la sabbia e devi trovarla i letti legno e lana alberi che vabbè li puoi piantare che altro? alberi e pecore le cesoie senza ucciderle così la lana puff ricresce buono quattro quattro aspetta aspetta no ho messo troppo lontano mi sa che va messo qua vabbè visto che esploderà pure questo che è qua qua io me lo metto qua quindi che è che è che è così non grepo che è anche se non sia grepo che è ne vedete niente però sicuramente scavare con sei più comodo ne cioè non lo so voi come fareste scavare con ora basta che non muore i joystick eh caduti in diretta in diretta in live su twitch mi raccomando dico voi come fareste scavare col piccone va allora letto piazzata uno due tre quattro e intanto ci mettiamo un altro letto intamano tiè e noi abbiamo subito zero danno tiè cioè il zero proprio no intanto qua spegniamo un po' di fuorchi tiè però ora vabbè o scavamo beh è comodo intanto eh visto che ho trovato loro sai che c'è io schifo non mi fa chiè a posto qualcuno è caduto giù eh vabbè eh sti e anche qua abbiamo fatto un bel carattere chiè vabbè uno due tre quattro comunque dovete mettere se volete scavare con così dovete mettere sempre il blocco davanti perché io ho detto vabbè prova a non metterlo eh meno non ho mai eh 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 il blocco ti fa da scudo vabbè io volevo trovare l'ane dei dite però il video consista in scavo con i letti vabbè sti e ci eh